ciao ma te sei il canna canna chi è il canna no 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 non sono il canna e non mi bombo la giusi te invece sei la bertolini immagino dipende che mi cerca perché sempre vendermi qualcosa caschi male no 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 volevo farti vedere questa cosa qua che credo ti appartenga sei una morta io la butto via senza nemmeno leggere un po' che sei un visile no non sono un visile però so uno a cui è arrivato addosso un sasso e questo sasso è ravvolto da questo foglio qui e siccome c'è un morto ammazzato fresco credo che dovresti andare alla polizia e dare delle spiegazioni ma un'altra volta che mi fa le canne no è che magari sei un po storditina da scrivere una denuncia anonima su una tua multa no cicci non vorrà dire che qualcuno avrà raccattato arbitone la carta perché io e sto morto ammazzato vi non so nemmeno chi è il peruzzi l'amministratore del condominio si già lo sapevo però io ho questi ossi brutti ti ando a scordarmi sì